ironia bivalence finali aperti queste sono le fotografie che eliot ama di più e questa certamente è una delle sue fotografie predilette il matrimonio di brask è una fotografia che eliot ama regalare ai suoi amici quando si sposano io sono stata presente a uno di questi eventi e ho potuto godere della reazione perplessa del destinatario della fotografia una una delle immagini tipiche della maniera di eliot di raccontare i rapporti umani perché una di quelle immagini dove ognuno può vedere quello che sente in quel momento può dare un finale può raccontare una storia all'interno di questa ci sono altre fotografie in mostra che hanno questa stessa tipologia di ironia gentile insinuano un dubbio e inducono ad una riflessione